A noi questa occasione, questa sera l'abbiamo chiamata Cambio Menù, mangiare e bere fuori casa domani, cercando di approcciare un po' i cambiamenti, se ce ne sono e quanti sono effettivamente, quanti sono intensi i cambiamenti nel modo di mangiare e di bere fuori casa dalle nostre parti ma non solo. Qualche settimana fa è stato ulteriormente allungato dal Ministero dell'Agricoltura l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali toscani, è stato allungato aggiungendo la Befana di Barga che io non conoscevo, non so se voi, è un biscotto di marzapane al Kermes e che diventa il 467esimo prodotto agroalimentare tradizionale toscano, censito appunto in questo elenco. La Toscana è terza sul podio delle regioni che hanno più prodotti censiti, prima di lei c'è la Campania con 601 e il Lazio con 472 e la Befana di Barga si aggiunge a prodotti, attivicità stranote nelle nostre tradizioni, anche in particolare da queste parti, l'Aglione della Valdichiana, il Pecorino di Pienza, tanti altri che evidentemente non vado a citare però, e qui veniamo un po' allo spunto di attualità, sulle tavole delle nostre case, anche in provincia di Siena, sulle tavole dei posti dove si va a mangiare e bere fuori ultimamente si vedono, si compaiono anche ingredienti o preparazioni, abbinamenti anche un po' nuovi, ci sono forse più frutta tropicale di un tempo, ci sono forse più cereali alternativi al grano, nelle varie pietanze che si vanno preparando, ci sono forse aperitivi anche un po' più cene di una volta rispetto a quello che tradizionalmente si intendeva per aperitivi, ci sono dei segnali. Si rispecchiano tutte le tendenze che sono descritte dai più grandi divulgatori del settore, ovvero la tendenza a bere sempre più a basso contenuto alcolico, il low alcohol drink e proprio su questo io la drink list che ho costruito per la struttura va stata proprio su un concetto di slow drink che è parallelo a un concetto di slow food, quindi non bere tanto per bere ma bere per un'esperienza, bere qualcosa che magari da un'altra parte non avresti possibilità di testare proprio per differenziarsi dagli altri. In molte drink list, in moltissimi locali nella top 100 bar del mondo contengono tanti analcolici ed è lì che si riconosce la bravura nel differenziarsi, perché gli analcolici è molto più difficile farli piuttosto che un alcolico. Perché è più difficile? Dal momento che hai molta meno scelta, se vuoi differenziarti devi assolutamente sicuramente fare tutto homemade. Le tendenze sono proprio quelle più al mangiare a poco, al cercare un qualcosa di nuovo, un qualcosa che da un'altra parte non ci potrebbe essere, quindi a cercare l'esperienza. Noi non si è fatto altro che rispolverare quello che è un gioiello. Naturalmente era un gioiello fermo da circa dieci anni e quindi l'oblio di quello che tu hai definito i locali che noi ci siamo aggiudicati attraverso un bando molto complesso della Fortezza Medicia di Siena, laddove Notè che è nata, sono stati segnati. Questo non vuol dire che sono stati rovinati, le eccellenze non si rovinano. Le eccellenze parliamo in termini di location, ma anche il vino, io reputo che è un'eccellenza. È un'eccellenza italiana e come tale non deve essere rovinata, anche se qualche Stato estero ci sta provando in tutti i modi. Questa è una cosa che noi non possiamo permettere. L'Italia deve difendere le sue eccellenze in ogni campo. La flessione di cui parlavi prima è vera. Diciamo che l'Italia ha tante flessioni, io mi occupo di anche altri settori che non sono solo quello del vino e dell'agroalimentare. Le flessioni aiutano a stare in forma a volte. È giusto. Ci sono altri settori che purtroppo navigano in flessioni molto peggiori di questo. Quindi possiamo dire sempre che il vino è un ottimo investimento. È un ottimo investimento anche per chi ci lavora, anche perché ha la possibilità di confrontarsi non solo con il nostro bellissimo paese che è l'Italia, ma come hai detto tu, gli Stati Uniti sono uno dei paesi che ci danno veramente la maggior spinta economica in questo senso. Creano un trend molto positivo. Fillefibren è una cooperativa di lavoro, pensate, manifattura. L'unica in Toscana e probabilmente l'unica in Italia come cooperativa di comunità, io sto parlando. Abbiamo scelto una strada difficile. In un cassetto di un... A un certo punto abbiamo trovato un libretto di una nonna che parlava della cassetta di cottura. La cassetta di cottura era un oggetto che i primi incontri sono stati fatti con Giovenale, primo secolo dopo Cristo. Abbiamo scoperto che nel primo secolo dopo Cristo la cassetta di cottura era già utilizzata, perché era una cassa di qualsiasi genere, coibentata con la paglia o il fieno, e che manteneva il calore. Una volta finita la Seconda Guerra Mondiale, cosa fa? È successo che è arrivata l'energia elettrica, è arrivato il gas. Vi ricordate, qualcuno forse si ricorda, le cucine dove dentro si metteva la bombola del gas, si alzava e c'era il piano del gas. Ecco, arrivato questo, ha tenuto la cucina economica, che tutti conoscete, ma la cassetta di cottura è entrata in disuso, perché è elemento particolare. Adesso c'è stato veramente un interesse a livello internazionale, siamo arrivati fino agli Stati Uniti, perché? Perché uno slow cooker, adesso va di moda, è uno slow cooker naturale, e ho quasi finito, eh? Uno slow cooker naturale che non ha bisogno di ricambi elettrici, elettronici di nessun tipo, che è totalmente sostenibile perché tutte le componenti sono controllate nella loro origine, ha un ciclo di vita molto lungo, alla fine della vita è riutilizzabile. Secondo noi potrebbe essere interessante per i bambini più piccoli conoscerla dal punto di vista appunto anche del riciclo, del riutilizzo, dell'evitare lo spreco. Questa lana che prima veniva buttata, seppellita, inquinando ovviamente anche l'ambiente, viene riciclata e utilizzata per fare qualcosa che poi dura tanto nel tempo. Si può realizzare, l'idea sarebbe di far realizzare ai bambini una cassetta durante il laboratorio. Per i più grandi, i ragazzi che sono usciti come lui da, o che stanno per uscire da un istituto che prepara proprio alla ristorazione, potrebbero imparare, oltre alla storia, alle caratteristiche tecniche, anche a cucinare. L'elemento comune che ritrovo in quasi tutti questi dati è sicuramente l'elemento che riprendiamo dalla dieta mediterranea, la convivialità, un aspetto che è sottovalutato per molto tempo e che è stato riscoperto sicuramente in periodo o in uscita Covid. Però ti chiedo, la convivialità non è in contraddizione con la crescita del delivery? La crescita del delivery, appunto non ho detto alcuni di questi dati, proprio perché il delivery è un, diciamo come, l'innovazione. L'innovazione, il mondo si evolve, quindi giustamente... Anche un po' moda, eh? Esatto, esatto, i giovani tendono tanto alla comodità, alla massima resa e il minimo sforzo, diciamo. Quello che noi chiamiamo aperi cena, aperi pranzo, ormai si farà anche aperi colazione, eccetera, eccetera, è perché, mentre ai miei tempi non sono così datata, ma insomma, mi ricordo la mia giovinezza, l'aperitivo era una cosa veramente molto contenuta. Adesso ti siedi in delle bellissime location, la Fortezza sarà una di quelle, che uniscono un impatto paesaggistico importante, l'antico col moderno, quello che viene chiamato dagli architetti modernariato, no? Noi avremo la fortuna, e qui mi faccio un po' di pubblicità, di avere un ristorante di un certo livello, ma accessibile a tutte le tasche, in una location storica con la modernità di un museo che, seppur in una location storica, è multimediale, sensoriale, che quindi ha dei percorsi adatti ai giovani, ai meno giovani, eccetera, eccetera. Quindi, una volta gli aperitivi erano veramente una cosa ridottissima, anzi, proprio veramente quasi... O frugale, eh? Adesso è un vero e proprio pranzo, e prodotti di qualità. Noi la stiamo cavalcando a pieno, perché proporremo menu e prodotti di qualità, prodotti italiani, per fortuna, perché questi fast food ci hanno veramente riempito la testa di prezzi cheap, che però danno poi una qualità veramente scarsa. Mi vorrei ricollegare anche al discorso di intolleranze alimentari. Io sono mamma di una bambina celiaca, e in Italia c'è sempre molto poco rispetto ai ristoranti che propongono menu certificati. Però, devo dire la verità, io che giro molto nel mondo, c'è veramente la stessa offerta che c'è negli altri Stati. Forse anche di più in Italia. Per contro c'è un potenziale ampio. C'è un potenziale ampio. Bisogna cavalcare e offrire anche alle persone che hanno varie intolleranze alla celiachia. È una di quelle meno pericolose. Ce ne sono altre molto più pericolose, che possono portare dei problemi medici importanti. I ristoranti bisogna che si attrezzino. Il nostro interesse è anche investire sui giovani, che poco si accostano a questo mondo, molto male. Perché io dico sempre qualità e quantità fanno la differenza. Quindi, se parliamo di alcol, possiamo parlare di carne. Se io mi riempio di carne, mi riempio di formaggi, mi riempio di tanti alimenti, naturalmente tutti gli eccessi fanno male. Il vino, secondo me, è una ricchezza del nostro paese. Non dobbiamo permettere a nessuno di danneggiarci, in questo senso. Ecco perché io credo che la nostra compagine, che parte da Siena, e per la prima volta siamo finalmente anche nei territori, presenti in una comunità che ci interessa molto, deve diffondere questa cultura. Il vino non va demonizzato, innanzitutto. è un alcolico e non un super alcolico, che preso con moderazione, lo dicono tutti i medici, gli scienziati, eccetera, non può fare altro che bene. Ho sempre visto, nei miei coetanei, purtroppo all'età di 13-14 anni, un approccio quasi, cioè non quasi, totalmente, sicuramente per moda, diciamo giusto per farsi grandi, diciamo. Per uscirne, semplicemente, credo che bisognerebbe un attimo anche far rendere conto ai giovani del patrimonio che abbiamo, che non è una una semplice bevanda alcolica per far, per passare le serate. E c'è anche un mondo dietro. Non è che c'è anche un mondo, c'è un mondo dietro. C'è soprattutto. Io sono stata insegnante e molto spesso il genitore non vede tanto in modo oggettivo il figlio, lo vede sotto forma di protezione fino a una certa età, poi a un certo punto è cresciuto e ti trovi una persona. Noi non abbiamo mai avuto problemi diretti, quindi posso dire che è andata benissimo. ho visto invece delle realtà ecco, a scuola è più facile vedere queste cose in modo diverso, perché l'insegnante è sempre un'altra cosa rispetto al genitore. Io credo molto nei giovani, per certi versi, per certi versi sì, per altri meno. Però io credo che forse stanno migliorando, forse il fondo è stato toccato secondo te, poi dipende da dove. Certo. Io vedo che forse c'è una riscoperta del vino. Ultimamente vedo che i ragazzi sono più tendenti a consumare vino di qualità e non alcolici. poi diciamo anche per quanto riguarda i superalcolici comunque sia vogliono il prodotto buono. Io sono entrata a fare parte della pasticceria i diavoli nel 1986 ben 36 anni fa quasi quindi ero proprio uscita dalla scuola ora ho 53 anni se ho fatto bene i conti insomma e niente ho fatto la gavetta era il mio sogno avere una pasticceria e con tanti sacrifici ce l'ho fatta realizzarla ma io penso che il percorso più intenso sia stato il periodo del covid perché in quel momento penso che ci siamo azzerati tutti quanti e è stato un momento che è stato un salto nel buio ripartire io sono partita proprio da non da zero da sotto zero però con tanto sacrificio ma ce l'ho fatta portare avanti il nome dei diavoli a Sarteano poi ecco c'è stato il covid che è stato proprio devastante per tutti e poi c'è stata piano piano la ripresa abbiamo avuto tantissimo l'aiuto dell'amministrazione comunale ci siamo ritrovati per scherzo con una videochiamata e da lì siamo stati ancora 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 abbiamo fatto una bella associazione che ancora esiste che è il CCN di Sarteano e ci siamo rimboccati le maniche che abbiamo cercato di dare valore alle aziende di Sarteano abbiamo l'aglione abbiamo l'olio abbiamo i formaggi abbiamo tutto si tratta solamente di cercare di valorizzarli perché Sarteano c'è l'aria buona c'è l'acqua c'è un territorio che è bellissimo però ripeto forse in un momento di crisi se siamo tutti insieme si fa squadra e andiamo avanti ma volevo anche ringraziare i livelli locali di Confese Ercenti c'è Alessandro e tutta la Sciurma che veramente ringrazio di cuore perché perché nelle brutte vicissitudini che abbiamo passato noi faceva riferimento Ilenia nel 2020 del Covid io credo che le comunità abbiano riscoperto l'importanza di fare squadra si parla tanto di questo termine super abusato della sinergia però credo che in questo caso qui veramente sia stato questo mettersi in gioco con uno strumento che era una roba sconosciuta ai più le videoconferenze oggi sono diventate pane quotidiano forse una cosa positiva che è rimasta di questo tsunami assurdo che insomma è stato veramente uno spartiacque incredibile in quel momento lì gli imprenditori del territorio hanno bussato alla porta del comune e questo è un altro segnale non scontato insomma quando si ha bisogno si chiama in causa fortunatamente questa bistrattata politica e in quel caso lì anche le associazioni di categoria Alessandro e tutti quanti hanno fatto la loro grande parte nel cercare di fare videoconferenze mi ricordo chilometriche da 50 persone esercenti che sono numeri incredibili per Sarteano e grazie anche qui dico alla lungimiranza di una regione che mette appunto due strumenti secondo me fondamentali per fare squadra che sono una la cooperativa di comunità Gloria ci ha parlato della loro bellissima esperienza che molto probabilmente senza l'aiuto di un comune Agnese Carletti San Casciano e la regione Toscana e senza un aiuto di una regione sarebbe decollata con maggiore difficoltà io credo che il trade union si riassuma in un tema fondamentale che è la valorizzazione della creatività italiana che riesce a diciamo palesarsi in quelle che sono le esperienze che abbiamo sentito la socialità che può generare un drink l'esperienza di ricerca incredibile valorizzazione che può creare l'esperienza della cassetta di cottura ma anche l'ambizione di rilanciare un marchio storico primo museo nato nel 1933 dedicato proprio al vino e qui c'è l'altro grande tema del fare la cultura dei nostri prodotti pane e coperto sarà compreso nel listino di enoteca italiana e cosa proporrà di nuovo e di innovativo coperto non coperto ormai il prezzo è abbastanza standardizzato per il tipo di ristorazione io giro molto nel mondo e in Italia e più che altro mi interfaccio cerco sempre la qualità proprio perché sono sempre fuori casa evito di farmi venire una gastrite cerco locali che abbiano una ristorazione di prodotti tipici la Toscana ha tantissime potenzialità sotto questo punto di vista quindi io direi ci piace vincere facile ma siccome noi siamo inoteca italiana Siena il ristorante dovrà equipararsi ai migliori prodotti di tutta Italia quindi proporremo sicuramente dei prodotti tipici toscani ma anche pesce molto abbiamo uno chef che è specializzato i ragazzi adesso per tornare a delle cose diciamo che abbiamo detto anche prima si rifanno molto al sushi ecco noi abbiamo trovato uno chef che fa il sushi ma made in Italy quindi pesce fresco formato sushi ma made in Italy ad un prezzo congruo quindi non divideremo costo del coperto anche se sarà un diciamo un posto anche bello architettonicamente dal punto di vista della preparazione delle pietanze io dico sempre che l'occhio vuole la sua parte il primo tutto anche quando vediamo un bel quadro eccetera eccetera ci colpisce l'aspetto visivo quindi un bel una bella preparazione un prezzo giusto prodotti italianizzati da quando grosso modo potremmo iniziare ad assaggiare qualcosa? allora noi ci siamo dati un tempo per fortuna lo riusciremo a rispettare perché nella prossima settimana definiremo il discorso chiavi cioè entreremo finalmente nei locali della fortezza quindi marzo 2025 vi aspetto tutti a Siena c'è qualcosa tra quello che avete sentito stasera e che non conoscevate o seguivate prima che vi piace approfondire cominciamo ad andare da qua allora sicuramente beh questo è facile come domanda forse la più fa la cassetta di cottura per me è e questo l'abbiamo detto sono campana d'origine quindi il fatto di poter non stare lì a guardare il ragù che cuoce ore e ore e ore ma potermi allontanare sarebbe e io dico la preparazione quello che poi mi raggancio al discorso del sindaco la voglia di fare un giovane che è così propositivo preparato una associazione che si mette in gioco su un prodotto e risolve diversi problemi io mi occupo anche di ambienti anche quindi quello dello smaltimento più prodotti si rimettono nel circolo virtuoso e più si riesce a creare una vera economia circolare uno stimolo in più a proseguire proponendo il concetto di slow drink che spero possa prendere piede mi porto via un discorso che lega tutti noi quindi il progetto è quello di andare avanti e migliorare perché dobbiamo migliorare e ora vi dico che c'è la pappa al pomodoro fatta da Tiziana Tacchi con un pane veramente speciale e con tanto amore e soprattutto con tanti saluti da parte sua quindi vi abbraccio a tutti però si sa è il periodo la possiamo vedere poi la possiamo aprire poi no quello che abbiamo portato oggi qua a voi è un drink sostanzialmente preparato a base di gin ovviamente del territorio perché comunque abbiamo voluto andare a valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio quindi è un gin prodotto in zona con tutte botaniche coltivate in zona quindi che portano poi a diciamo portare il sapore delle nostre zone sul gin che poi verrà miscelato e l'abbiamo preparato con un cordial come prima ha citato il collega Sergio Maria abbiamo fatto questo cordial con delle spezie che ci sono state proprio espressamente consigliate dal produttore che poi vanno appunto a valorizzarlo quindi come il pepe nero l'arancio il cetriolo ovviamente il lime come essendo un cordial a base di lime e abbiamo andato tutto a shakerare con ghiaccio quindi on the rocks per poi andare a fare un top quindi un riempimento del bicchiere con della tonica semplice per dare la nota amaricante in quanto è un cocktail d'aperitivo ha un nome? sostanzialmente non ci abbiamo pensato però comunque essendo una cosa prodotta qui in zona potremmo anche tranquillamente chiamarlo come un non so quarantatresimo essendo comunque prodotto con il quarantatresimo parallelo potremmo chiamarlo vada per il quarantatresimo quindi domani se tornate o dopo domani chiedete potete chiedere il quarantatresimo a Grazie a tutti.